Lo avete fatto qui? No. Perché no? Tu avresti voluto? Io voglio solo la verità. Sì, l'abbiamo fatto qui. Dove? Lì. Su quello. Ci abbiamo fatto la prima scopata. Hai pensato a me? Quando? Quando l'avete fatto qui? Rispondi alla domanda! Stasera. Tu sei venuta? Perché fai così? Perché voglio sapere. Sì, sono venuta. Quante volte? Due volte. Come? Prima mi ha leccata e poi mi ha scopata. In che posizione? Io stavo sopra e poi mi ha presa da dietro. E lì sei venuta la seconda volta. Perché il sesso è così importante? Perché io sono un cavernicolo! Tu ti toccavi mentre lui ti scopava? Sì. Ti masturbi per lui? Qualche volta. E lui per te? Facciamo tutte le cose che fanno quelli che fanno sesso! Ti piace succhiarglielo? Sì! Ti piace il suo cazzo? Lo adoro! Lo fai venire sulla tua faccia? Sì! E che sapore ha? Lo stesso che hai tu, ma più dolce! Così va meglio. Grazie. Grazie della sincerità. Ora va a fanculo e muori. Sei una fottuta pagaccia.